L'avevano pronunciato che sarebbero usciti in piazza con i loro trattori e sono stati di parola. Gli agricoltori del comprensorio giarese contestano il caroacqua per irrigare i campi, chiedono il ripristino delle dighe comunelli di Sueri e Cimia e l'abbattimento del limu sui terreni agricoli. Un lungo corteo è partito da Via Europa ed ha attraversato il corso principale. Alla manifestazione hanno partecipato i contadini aderenti alle organizzazioni UPA, UNSIC e alla associazione Santa Maria. Una protesta che segue quella che vede coinvolti da oltre due settimane i lavoratori dell'indotto dell'ENI, i quali chiedono l'avvio del piano di riconversione dello stabilimento, così come concordato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro territorio è assillato da gravissimi problemi. L'emergenza stamattina ci porta a lottare per la sospensione degli aumenti, la dichiarazione dello stato di crisi, l'esonio del pagamento IMO, ma è l'inizio di un'avvertenza che ovviamente si collega all'avvertenza Gela, perché stamattina oltre alla presenza dell'UNSIC rappresentata da me, dall'Unione Provinciale Agricoltore rappresentata da Paolo Maganugo e dall'associazione Santa Maria di Niscemi rappresentata da Gentile, volontariamente in maniera spontanea stanno partecipando anche i lavoratori dell'industria, anche altre organizzazioni di categoria e anche altre fasce ricollegabili a problemi che hanno i lavoratori con licenziamenti, fuoriusciti dal posto di lavoro o precarietà. Quindi è la fascia del bisogno che si allarga rispetto a un governo nazionale insensibile e sordo ai problemi di Gela. Quindi noi stiamo iniziando una lotta che si inserisce nell'avvertenza Gela per la quale occorrerà unire tutte le forze sociali, economiche, produttive, istituzionali e politiche affinché si riempie intanto di contenuto questa avvertenza Gela e si continui a lottare. Ci sono dei settori che ormai sono al collasso, il nostro particolarmente perché le nostre istituzioni ormai ci hanno abbandonato e stiamo chiedendo con forza che non venga a morire l'ultimo settore probabilmente trainante di questa città perché ormai se noi consideriamo l'Eni sta chiudendo, porto non ne abbiamo, turismo non esiste, artigiano non ce n'è più, commercio non esiste più, se dobbiamo fare morire pure l'agricoltura allora è giusto che parliamo di cominciare ad andarcene tutti fuori perché qua ormai non possiamo più vivere in queste condizioni. Ma chi dovrebbe intervenire? Allora in questo caso la protesta di oggi è rivolta, è chiaro che c'è un punto di riferimento stiamo parlando di aumento di acqua, aumento indiscriminato del costo dell'acqua però è chiaro che le responsabilità in questo caso, in questo preciso caso sono della Regione perché è la Regione che ha tagliato i fondi al Consorzio e quindi il Consorzio non può più permettersi di vendere l'acqua a 15 euro l'ora ma la deve vendere a 22, quindi è chiaro che se la Regione non interviene come è intervenuta negli altri anni il Consorzio sicuramente non può ridimensionare le cose.